È iniziato a Palermo il processo a carico dell'ex poliziotto Francesco Ventriglia, è stata un'udienza abbastanza movimentata, che cosa è successo in particolare? Io voglio esprimere la mia grande soddisfazione e l'orgoglio per la magistratura siciliana rappresentata da quei giudici di Palermo della Corte d'Appello perché hanno già posto rimedio a quello che io ritengo essere un gravissimo errore giudiziario posto in essere ad aggrigento dal magistrato Sara Marino che aveva assolto i due Ventriglia, l'avvocato Luigi e il padre Francesco, dal reato di invedele e patrocinio in danno di un disabile. Cos'era avvenuto? Il Ventriglia Francesco aveva commesso una serie di gravi scempi sulla spiaggia di San Leone col chiosco Luna Rossa. Poi si erano adoperati con artifici affinché rispondesse penalmente degli abusi del Francesco Ventriglia un disabile che appunto era formalmente il titolare di alcune autorizzazioni. In primo grado i due Ventriglia, l'avvocato e il padre erano stati assolti con una sentenza che avevo raccontato in questo volume ritenendo che fosse semplicemente una sentenza scandalosa. Ieri già la Corte d'Appello nel corso di un'udienza per certi versi tumultuosa per lo scontro verbale tra me e il difensore dei Ventriglia, avvocato Nino Gazziano, ha adottato, accogliendo mie richieste, accogliendo richieste della pubblica accusa, alcune decisioni che già vanno in direzione certa del ribaltamento della sentenza e della condanna dei Ventriglia. Innanzitutto ha disposto una perizia medico-legale nei confronti del disabile sul presupposto che la dottoressa Marino aveva assolto i Ventriglia sostenendo che il disabile era in grado di dirigere un gantiere. La Corte d'Appello dice un momento, andiamo a vedere se un disabile mentale è in grado di dirigere un gantiere come quello di una rossa. E poi soprattutto hanno emesso un'ordinanza con cui vanno sostanzialmente ad acquisire alcune prove, le prove io le avevo definite dello scandalo, escluse con un provvedimento abnorme dal magistrato Sara Marino. Con questi due elementi l'autostrada è tracciata e giustizia sarà ristabilita. Sono facile profeta di una sentenza che dirà esattamente quello che io ho scritto in questo libro che ognuno può comprare e leggere per capire come va combattuta la cattiva giustizia.